Sale la temperatura dell'acqua nel mar Adriatico, la colonna d'acqua fino a 20 metri di profondità ha subito un rialzo di 7 gradi rispetto all'anno passato, a subirne gli effetti tutto l'ecosistema marino con l'aumento di fenomeni di mortalità di massa per alcune specie e con la comparsa di altri che amano le acque calde, vermo cani, pesce scorpione e le razze. Tra Numana e Portonovo l'avvistamento di questo pesce cartilagineo si è via via intensificato nelle ultime settimane, massima attenzione da parte del personale di salvataggio dei liri questo perché il veleno contenuto nella coda dell'animale può creare problemi di salute anche molto seri. Dottoressa, adesso si parla molto di queste razze, insomma qui anche noi ne abbiamo alcuni esemplari qui a Traporto Novo, insomma alle spiagge della Baia, cosa si può dire al riguardo? Allora, questi esemplari che sono stati avvistati lungo la costa sono pastinache e sono esemplari che vivono comunemente nei nostri mari però è non così comune avvistarli in grandi quantità perché gli avvistamenti sono stati diversi lunga tutta la costa anche contemporaneamente quindi questo ci fa pensare che siano diversi che si stanno avvicinando nello stesso periodo probabilmente per riprodursi o per cercare cibo. Di per sé non sono animali pericolosi o aggressivi però in realtà hanno questa coda che può arrivare a essere lunga anche 30-40 cm con un aculeo velenoso che ha anche una morfologia tale per cui se dovesse pungere si potrebbe spezzettare all'interno, insomma quindi creare un po' infezioni e in base agli organi colpiti potrebbe anche la gravità aumentare. Perché le troviamo di più? Ma l'inalzamento delle temperature dell'acqua sicuramente crea uno squilibrio anche nelle abitudini degli organismi marini perché chiaramente per loro i segnali come la luce e la temperatura, cioè questi parametri sono segnali e quindi magari un'innalza un'ondata di calore per loro significa una cosa e invece in realtà non c'è quel momento per avere quel comportamento lì. Però non è la prima volta che vengono avvistati a riva. Si avvicinano appunto secondo me per riproduzione e ricerca di cibo. Alla fine sono animali che vivono a stretto contatto con il fondale, sabbioso, fangoso, con il quale appunto provano anche a nascondersi con la sabbia eccetera e mangiano gli organismi nel fondo, quindi anche piccoli pesciolini, molluschi, crostacei e quindi è normale che si possano avvicinare.